Ciao, sono Elisabetta. Oggi voglio proporti una sequenza che ti aiuterà a prenderti cura dei tuoi occhi. Puoi fare questa sequenza in qualsiasi momento della giornata, da seduta o seduta a gambe incrociate sul tappetino oppure comodamente seduta o su una sedia oppure sul letto. La cosa importante è che la schiena sia dritta, quindi se questo non avviene in maniera spontanea puoi sederti o su un cuscino o su uno yoga blocca. Posizionati, metti le mani sulle ginocchia, dolcemente chiudi gli occhi. Porta l'attenzione alla tua palpebra destra. Senti la carezza di due dita sulla palpebra destra, dalla ghiandola lacrimale fino alla coda dell'occhio. Senti la tua palpebra destra completamente rilassata dopo questa dolce carezza. porta la tua attenzione alla palpebra sinistra. Immagina le stesse due dita a carezzare la palpebra sinistra. Dalla ghiandola lacrimale fino alla coda dell'occhio. Senti la palpebra destra. sinistra completamente rilassata dopo questa dolce carezza. Portati dietro queste percezioni e dolcemente apri gli occhi. Siamo pronti per affrontare i nostri esercizi. Il primo è guardare in alto e in basso. Cerca di mantenere la testa ferma. Guarda bene su e bene giù. guarda dritto davanti a te e chiudi gli occhi. riapri lì dolcemente e adesso guarda tutto a destra e tutto a sinistra. Cerca di mantenere la testa ferma. Solo la pupilla si muove. Guarda davanti a te e chiudi gli occhi. aprili. Guarda in alto a destra e in basso a sinistra. Più in alto a destra che puoi, più in basso a sinistra che puoi. Guarda dritto davanti a te e chiudi gli occhi. dolcemente apri gli occhi. Guarda in alto a sinistra e in basso a destra. Più in alto a sinistra che puoi, più in basso a destra che puoi. Guarda davanti a te e chiudi gli occhi. preparati ad unire questi quattro punti. Apri gli occhi, guarda in alto a destra, in basso a sinistra. Continua a disegnare dei cerchi. Fai i cerchi più grandi che puoi tenendo la testa ferma. cambia la direzione dei grandi cerchi. Rimpicciolisci i cerchi finché non ti ritrovi a fissare il punto che c'è tra le sopracciglia. chiudi gli occhi. Continua a fissare con gli occhi chiusi il punto che c'è tra le sopracciglia. E adesso strofina le mani. Permetti alle dita delle mani di rientrare le une nelle altre. senti il calore che sei in grado di generare con questo strofinamento delle mani. Vai più veloce che puoi. Improvvisamente separa le mani. Porta le mani a coppetta senza toccare il volto. Verso il volto, quindi i polpastrelli sono sopra le sopracciglia e il tacco della mano vicino alla bocca. Bocca. Senti il calore che dalle mani si trasferisce verso il volto. Dolcemente allontana le mani. Fai filtrare un po' di luce dagli occhi. E quando sei pronta, aprili. Namaste. Grazie. Grazie a tutti.